buongiorno a tutti allora oggi spieghiamo passo per passo come si fa il colluttorio di santa illegarda che serve per non solo per pulire i denti e tenerli sani ma soprattutto per le gengive anche quindi denti e gengive quando si ha problemi per evitare problemi gengive prevenire ma anche se si hanno problemi ai denti e le gengive questo è la cura perfetta di santa integrata quindi abbiamo raccolto i rami delle viti dell'albero della vite eccoli qua e questi bisogna ovviamente non sono ancora secchi quindi io li sto tagliando come vedete pezzi piccoli perché devono entrare nel cestino per bruciarli quindi pezzi più piccoli possibili e una volta tagliati a pezzettini piccoli lasciarli seccare per qualche settimana dipende dal tempo quindi più è caldo più si seccano velocemente una volta seccati vi faccio vedere cosa bisogna fare ok ciao